La psicologia clinica in ospedale è un volume edito da Carlo Clerici e Laura Veneroni per Il Mulino nel 2014. Il volume tratta l'ambito della psicologia clinica, cioè del supporto per la salute mentale ai pazienti nel corso delle cure ospedaliere per malattie gravi. Lavorare in un contesto ospedaliero implica quindi conoscere strumenti e modelli che sono diversi rispetto a quelli della psicoterapia tradizionale. Nel testo sono proposte delle riflessioni che partono dall'esperienza clinica in contesti di realtà ospedaliera, esperienze cliniche che poi sono rilette attraverso una prospettiva interdisciplinare e alla luce dei modelli più recenti di ricerca scientifica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!